Ciao a tutti ragazzi, adesso vi parlerò della Samp, un avvio concertante che mi ha reso sorpreso, infatti vi vedo ancora in zona retrocessione. Le notizie più eclatanti di questa giornata e comunque settimana sono quello del cercare di rannovare Fabio Guagliarella e anche di fare lotta al Ludinese per Maumer Tankovic, forse è prima nel titolo me l'ha corretto con Tankovic, non so perché. Comunque la Samp cerca questo giocatore, Tankovic, non è l'unico perché è risultato un'altra notizia dove ci spiega che Toastdrecht, un giocatore dei Vikings di classe 99, si è cercato dalla Samp e non è proprio così, è un fenomeno. Una partita difficile contro i Cagliari nella Sabegna Arena, quando ricordava il momento del Cagliari, io parlerò del Cagliari e ci vediamo dopo raga.